Le tecniche che il mediatore utilizza nell'esplettamento della sua funzione sono numerose. Per racchiuderle in due grandi noveri possiamo distinguere tra tecniche legate alla comunicazione e tecniche legate alla procedura. Tra le tecniche legate alla comunicazione una potrebbe essere il reframing condiviso, ovvero quella possibilità di recepire elementi che le parti stesse hanno discusso per riuscire a impacchettare insieme elementi che per le parti sono importanti su una stessa pagina, in modo che le parti siano in qualche modo in grado di vedere i progressi che stanno facendo, i punti di vista che condividono, ciò che ancora li separa su cui possono concentrarsi, anziché avere quella sensazione di andare in qualche modo privi di un qualche appiglio verso la procedura. Relativamente proprio alla procedura alcune tecniche, almeno la tecnica principale può essere la modalità di utilizzazione della procedura stessa. La procedura che si divide in sessioni private o in sessioni congiunte, laddove una sessione privata chiamata in modo utile può essere efficace per il mediatore, per esempio per andare a notare se la parte ha alcune situazioni che vorrebbe sviluppare meglio o diversamente, oppure se ancora non si rende conto effettivamente delle proprie capacità negoziali per tutto quello che è il materiale, per tutto quello che è ciò che le parti stesse stanno esaminando sul tavolo.